La chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Matteo Angeletti, Liebe macht frei, l'amore rende liberi, ma ci può essere amore nell'inferno di Auschwitz? Sì, ma non l'amore che conosciamo inteso in modo canonico come noi lo intendiamo fuori da Auschwitz. Probabilmente il filtro e la lente attraverso la quale guardare i fatti avvenuti lì dentro devono sicuramente essere quelli di un contesto assurdo dove qualsiasi valore è sballato, il valore della vita, il valore del rapporto umano e quindi sì, può esserci spazio anche per l'empatia, per l'amore, ma sicuramente appunto un amore che in qualche modo nasce viziato e vive distorto. Un ufficiale nazista, una prigioniera ebrea, Franz Helena, Auschwitz nel 44 e poi si ritrovano anni dopo. Sì, esatto, diciamo la storia inizia nel 72 quando c'è il processo a Franz Wunsch, oltretutto tutto quello che viene narrato nello spettacolo è tratto da una storia vera, oltretutto quello che si legge poi alla fine dello spettacolo, la sentenza che viene letta, è la sentenza realmente poi che è stata pronunciata dal tribunale di Vienna. Si trovano nel 72 e dal 45, quando c'è la liberazione di Auschwitz, non si erano più rivisti. Dal 42 Elena vive sotto l'ala protrettrice di Franz, che in qualche modo, spinto da questo sentimento che chiamiamo in un certo senso amore, la aiuta a sopravvivere nel campo. Aiuterà poi anche la sorella di Elena Rosa a poter sopravvivere nel campo. Tutto ciò però, ribadisco, va un attimo contestualizzato, perché chiamarla storia d'amore nel senso canonico del termine non sarebbe corretto. Quindi magari vedendo lo spettacolo invece si riesce a capire quali siano i legami che si vengono a creare tra i vari personaggi di questa vicenda. Vittima e carnefice, ma forse non sono così netti i confini. No, in questo caso no, sicuramente possiamo dire che era dalla parte sbagliata della storia e che era dalla parte giusta della storia. Però il carnefice in qualche modo ha pietà, perlomeno di alcune delle sue possibili vittime. E la vittima in qualche modo riesce a, forse approfittarsi è una parola sbagliata, riesce a sfruttare questo vincolo sentimentale che si viene a creare. Però non si può certo tacciare di opportunismo una persona che cerca di sopravvivere in un inferno del genere. È un vincolo particolare, è un vincolo che appunto va capito e va contestualizzato, perché visto in modo freddo dall'esterno con i parametri che abbiamo noi oggi per valutare le relazioni, sicuramente porta a dei ragionamenti che potrebbero non essere giusti. Invece bisogna un attimo entrare nell'ottica, ed è questo che credo che lo spettacolo riesca a fare, nell'ottica di quello che quelle persone stavano vivendo, sia vittime che carnefici. Perché poi allo stesso tempo, in qualche modo anche i carnefici, o alcuni di loro, soffrivano quella situazione. Forse questo è il motivo per cui Franz poi si aggrappa un po' anche ad Elena per cercare di dare una parvenza di normalità a quelle che erano le sue mansioni all'interno del campo. Grazie. Grazie. Grazie.